Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Oggi Spazio Salute si occuperà della sclerodermia. Cercheremo di capire che cos'è questa patologia, quali sono le cause, come si riesce a convivere e quali sono anche le terapie. Per questo sono con noi in studio, in questa puntata, la dottoressa Francesca Molinaro, esperta di malattie immunoreumatologiche dell'Unità di Medicina Interna di Casa Sollievo della Sofferenza e il signor Vito Di Tano, campione di cicloclos e testimonial dell'associazione che viene individuato con un acronimo, GILS, che significa Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia. Benvenuti fra noi. Grazie. Allora, anzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, perché la sclerodermia è una di quelle malattie definite rare, quindi probabilmente non tutti i nostri telespettatori ne sanno abbastanza o l'avranno anche sentita nominare. Per cui la prima domanda per la dottoressa Molinaro è che cos'è la sclerodermia che è detta anche sclerosi sistemica, giusto? Perfetto. Sì, buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'invito, perché mi consente di parlare appunto di una problematica rara, ma di una malattia nella quale la diagnosi precoce è importantissima, perché soltanto riconoscendola e trattandola precocemente possiamo cambiare la storia naturale della malattia. Sclerodermia, questo termine, significa pelle dura, letteralmente, perché l'aspetto più appariscente della sclerosi sistemica è proprio l'indurimento della pelle, cioè la pelle diventa, viene sostituita da un tessuto fibroso duro, per cui il paziente è come ristretto all'interno di una cotenna. E in base all'estensione appunto di questo indurimento noi distinguiamo due forme della malattia, che sono la forma limitata, in cui c'è un interessamento soprattutto delle estremità degli arti e del volto, e una forma diffusa invece in cui tutto il tronco viene interessato e il volto vengono interessati da questo indurimento, da questo ispessimento cutaneo. Ispessimento cutaneo che è legato, come dicevo, alla sostituzione del tessuto nobile cutaneo con tessuto cicatriziale, che compromette di conseguenza la motilità degli arti e del tronco e del volto. E perché viene definita sistemica, visto che interessa solo la parte superficiale del corpo, e quindi l'epidermide, il derma, insomma tutta la parte, la pelle per dirlo? In realtà questa è una cosa molto importante, non è una malattia dermatologica, cioè non interessa solo la pelle. La pelle è l'aspetto più appariscente, ma sistemico in medicina significa diffuso a tutto il corpo, per cui c'è un interessamento di tutti gli organi, anche i parenchimi nobili del cuore, dei polmoni, dell'apparato gastroenterico, del rene, vengono sostituiti da tessuto fibroso. Ne consegue una perdita della funzione, per cui abbiamo delle manifestazioni cliniche estremamente variegate, a seconda dell'interessamento prevalente di un organo o dell'altro, per cui non possiamo parlare di un'unica sclerosi sistemica, ma veramente di tante sclerosi sistemiche, a seconda di quello che è l'interessamento prevalente di un organo o dell'altro nel diversi pazienti. Abbiamo detto che è una malattia rara, per avere un'idea di quanto sia diffusa, che cifre possiamo dare? Diciamo che la malattia rara nell'Unione Europea è quella che ha una prevalenza dell'ordine di una persona su 2000 individui. In Italia ce ne sono all'incirca 20-25 mila pazienti noti per essere affetti da sclerosi sistemica, anche se andiamo a riconoscere le forme più lievi della malattia, quelle proprio precocissime, il numero di pazienti sale di molto. Malattia rara è anche definita adesso in tutta Italia, questo è molto importante perché i pazienti possono avere un percorso facilitato, sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista terapeutico. Però, come dicevo, sono molti casi che superano l'ambito delle malattie rare e vanno riconosciuti precocemente. Può colpire tutti, indistintamente, maschi, donne, qualunque età, o ci sono dei fattori predisponenti? Diciamo che la sclerosi sistemica la definiamo come una malattia, una connettivite, una malattia autoimmune, è una malattia del sistema immunitario che, anziché avere un effetto di difesa nei confronti dell'estraneo, si rivolge contro se stessi. Quindi è una malattia autoimmune e, come tutte le malattie autoimmuni, è prevalente nel sesso femminile. È molto alta la prevalenza delle donne rispetto ai maschi, dell'ordine dai 9 a 1, 4 a 1, a seconda delle casistiche, e molto frequente nell'età più giovani della vita, perché la sua comparsa è attorno ai 20-40 anni di età. Diciamo però che in realtà tutte le età possono essere colpite dalla malattia, anche il sesso maschile, e in questi casi spesso la malattia si presenta in maniera anche più severa, più grave. Quali sono i sintomi che caratterizzano questa malattia? Come dicevo prima, i sintomi possono essere legati all'impegno dei diversi organi, quindi cuore, reni, polmone, poi magari lo diremo meglio in seguito. Però la cosa più importante è un sintomo precoce e comune a quasi tutti i pazienti sclerodermici all'esordio, il fenomeno di reno. Che cos'è il fenomeno di reno? Ci spieghi. Ecco, presente in quasi il 95% dei pazienti all'esordio può essere... Quindi è il campanello d'allarme? È un campanello d'allarme molto importante, è una banalità, sembra, ma in realtà se il paziente ha un fenomeno di reno, deve immediatamente rivolgersi al proprio medico, il quale lo dovrà indirizzare in un centro per una diagnosi precisa. Perché cos'è? Ecco. Quando il paziente mette le mani nell'acqua fredda o si espone a dei bruschi cambiamenti di temperatura, per esempio esce all'aperto e c'è aria fredda, l'estremità delle dita, delle mani, dei piedi, ma anche il naso, le orecchie, anche la lingua, diventano improvvisamente pallide, bianche. Soprattutto lo si nota a livello dell'estremità delle dita. A questo sbiancamento iniziale segue poi una parte, un colore bluastro, la cianosi, cosiddetta, e successivamente un colore rosso. Infatti il fenomeno di reno viene definito tricolore francese, proprio per i tre colori, bianco, rosso, blu. Non sono sempre presenti tutti e tre i fenomeni, ma sicuramente c'è sempre lo sbiancamento e la cianosi. Da che cosa deriva questo fenomeno di renoi? Perché è così importante? Perché va sempre studiato, questo non smetterò mai di dirlo. Perché è un fenomeno che è legato ad un'alterazione dei piccoli vasi sanguigni, dei piccoli vasi dell'estremità, appunto, che sono alterati precocemente in questa malattia. Per cui la malattia è una malattia del sistema immunitario, ma anche una malattia dei vasi sanguigni. È una malattia più complessa delle altre malattie del sistema immunitario. Per questo è più difficile da curare, per questo è una prognosi più severa delle altre malattie autoimmuni. E dicevo, questo fenomeno di reno è legato alla vasocostrizione e poi alla stasi del sangue a livello dei piccoli vasi. E deve essere, come dicevo, valutato perché potrebbe essere primitivo, cioè non essere associato a nessuna malattia o potrebbe essere la spia della sclerosi sistemica in fase iniziale o anche di un'altra connettivite. Per cui quando ci si accorge di avere questo fenomeno, cosa bisogna fare? Andare subito dal reumatologo sospettando la sclerodermia oppure cercare di fare una sorta di comprensione diagnostica preliminare con il medico di base o con uno specialista di medicina interna? Purtroppo del fenomeno di reno si parla sempre di più ma non abbastanza perché il medico di base non sempre sa riconoscere questo sintomo. Quindi in ogni caso rivolgersi a un reumatologo, a un internista è importante perché è di qui che partirà la fase diagnostica per capire se il fenomeno di reno è primitivo, cioè non malattia, oppure se è il preludio della malattia. E quindi verranno avviati degli esami, tra cui in particolare la videocapillaroscopia e il dosaggio degli autoanticorpi, che serve per definire se c'è o meno una malattia dietro questo fenomeno di reno. Qualora non ci fosse, è importante anche dire questo, il fenomeno di reno va seguito ogni anno con gli esami che abbiamo detto proprio perché anche dopo 10-15 anni di fenomeno di reno può comparire la malattia. E ora vediamo come funziona questo esame di cui ci ha già parlato la dottoressa Molinaro. Vediamo come funziona la videocapillaroscopia, ce lo spiega un collega della dottoressa Molinaro e il dottor Marco Bernal che lavora sempre a casa solivo della sofferenza nell'unità di medicina interna. La capillaroscopia o videocapillaroscopia è un esame utilizzato soprattutto nell'ambito della reumatologia. Permette di diagnosticare il danno dei capillari più periferici e soprattutto è molto utile nelle malattie autoimmune del tessuto connettivo come la sclerosi sistemica, la connettività mista, la dermatomiosite e il lupo seritematoso sistemico. È molto utile per differenziare il fenomeno di reno primario da quello secondario. L'esame consiste in visualizzare con un microscopio ottico portatile con luce non calda le immagini della cuticola delle unghie, si prendono il più possibile delle fotografie e che ci permettono di effettuare un'analisi semi quantitativa di ogni fotografia. Sono otto i parametri e questo ci permette soprattutto nei pazienti affetti di sclerosi sistemica, fenomeno di reno e queste malattie reumatologiche autoimmune di vedere la progressione del danno reumatologico in quanto questi pazienti accudono da noi ogni sei mesi, ogni anno e in molti casi in pazienti di fenomeno di reno senza malattia reumatologica è possibile stabilire anche l'insorgenza della malattia in alcuni pazienti. Si possono visualizzare nella cuticola delle dita delle mani i capillari ben ordinati, ben paralleli e sono i parametri che sono stabiliti per l'esame di questa metodica e sono l'ingrosciamento dei capillari, l'assenza dei capillari, la formazione di nuovi capillari conforme a norme, il sanguinamento e il danno che possiamo vedere nel rilamentamento del flusso ematologico. A Spazio Salute questa settimana stiamo parlando di sclerodermia e sono con noi in studio la dottoressa Francesca Molinaro, esperta di malattie immunoreumatologiche dell'unità di medicina interna di casa sollievo della sofferenza e il signor Vito Di Tano che è testimonial di un'associazione, il gruppo italiano lotta alla sclerodermia oltre ad essere campione di ciclocross e poi scopriremo come è diventato testimonial di questo gruppo. Ma continuiamo a parlare della sclerodermia, di questa malattia e abbiamo capito l'importanza di ricorrere al reumatologo o comunque ad uno specialista di medicina interna quando vediamo questo particolare fenomeno di reno, cioè questa colorazione scura delle estremità. Quindi è importante andarci subito, è importante la diagnosi precoce? La diagnosi precoce è fondamentale perché soltanto intercettando la malattia in questa fase che viene definita early o very early, cioè quando non c'è una compromissione degli organi interni possiamo veramente trattare, curare la malattia. E' una malattia evolutiva. Evolutiva. Evolutiva a questo proposito, un tempo la malattia veniva definita sclerosi sistemica progressiva, proprio perché l'indurimento cutaneo e il coinvolgimento fibrotico degli organi erano in progressione. Adesso questo termine è stato eliminato, proprio nella definizione la malattia è una sclerosi sistemica e la sua progressione la possiamo arrestare. E' importante quindi la diagnosi di un fenomeno di reno che sia primitivo o secondario e in secondo luogo la valutazione dell'eventuale impegno di organo, cioè valutare se la persona con un fenomeno di reno ha già un interessamento del cuore, dei polmoni, dei reni, dell'apparato gastroenterico che sono le manifestazioni d'organo di malattia, che poi sono responsabili dei sintomi. Quindi prima si riesce a intervenire, meno diffusione potrà avere la malattia, è corretto? Perfetto. Ma si riesce a bloccare o si riesce solo ad arginare o a rallentare la progressione? Se la malattia è all'esordio noi riusciamo a bloccare la malattia. Se la malattia alle manifestazioni d'organo grazie alla terapia riusciamo ad evitarne la progressione. Quali sono i sintomi degli altri organi? Per esempio l'interessamento respiratorio si può manifestare con una dispnea, cioè affanno da sforzo o a riposo successivamente, con tosse secca, l'interessamento gastrointestinale con un reflusso gastroesofageo particolarmente importante, con una disfagia. L'interessamento cutaneo, e questa è la manifestazione che abbiamo detto più apparescente della malattia, con le ulcere cutanee, che sono ulcere dolorosissime e che insieme a questa fibrosi della pelle, che determina un irrigidimento e inflessione delle dita delle mani, impedisce poi i movimenti delle mani stesse. E poi tutti i pazienti sclerodermici hanno una facces particolare che li rende, nelle fasi evolute chiaramente, tutti uguali, proprio perché hanno i lineamenti del volto molto stirati, la bocca piccola, le teleangiectasie del volto e una ipommimia che è legata proprio alla fibrosi delle acute. L'altra compromissione importante dal punto di vista prognostico, perché può portare alla morte del paziente, è l'ipertensione arteriosa polmonare. Di questa se ne parla sempre di più negli ultimi tempi, ed è una compromissione delle arterie polmonari, dei vasi polmonari, che comporta poi un impegno del cuore destro, un sovraccarico del cuore destro, uno scompenso cardiaco irreversibile, refrattario. Quindi nel momento in cui la malattia interessa questi organi diciamo vitali bisogna necessariamente correre, in questo caso subito ai ripari e cercare di arginare il più possibile. E quindi quali sono le terapie? E queste terapie hanno effetto a tutti gli stadi della malattia? Certo. Allora diciamo che la terapia della sclerosi sistemica è cambiata molto negli ultimi anni, perché fino a dieci anni fa è una terapia essenzialmente sintomatica, cioè si curava il reflusso gastroesofageo, si curava il fenomeno di Renault con dei vasodilatatori, con la cardioaspirina. Attualmente la ricerca ha portato alla scoperta di quelli che sono gli intimi meccanismi che determinano la malattia. Quindi si sono stati fatti veramente dei progressi enormi, anche se ancora non si conosce bene come si avvì la malattia, per quanto si sa che è una malattia autoimmune. Quindi abbiamo a disposizione adesso dei farmaci fondamentali che interferiscono con i vari problemi, la vasculopatia, abbiamo detto la sofferenza dei vasi sanguigni, l'autoimmunità, la fibrosi. Quindi interferendo con i vari meccanismi noi riusciamo, come dicevo prima, più che a correggere i danni, a prevenire i danni. Questo è fondamentale, l'abbiamo detto più volte, è fondamentale alla diagnosi precoce, è fondamentale rivolgersi a un centro esperto di sclerodermia, perché la terapia non deve essere solo sintomatica, ma deve essere patogenetica, cioè deve interferire con i meccanismi che provocano la malattia. In ultima analisi abbiamo anche una disponibilità attuale, reale, per le forme rapidamente progressive, quelle che comportano un danno d'organo precoce, del trappianto di cellule stamilari emopoietiche, che va riservato a casi però ben selezionati. E ora cerchiamo di cogliere un'esperienza concreta, perché il signor Vito Di Tano ha messo il suo volto noto di campione di ciclocross al servizio di questa causa, cioè al servizio di una sensibilizzazione dell'opinione pubblica, a fare in modo che si corra subito dallo specialista appena ci sono i primi sintomi, il sintomo del reno, per la precisione, e non si perda tempo, è giunto a questa disponibilità attraverso un'esperienza personale. Ce la racconti? Ma l'esperienza personale è quella di essere io un portatore di sclerodermia, quindi il mio malgrado l'ho scoperto 13 anni fa, come ha ben spiegato la dottoressa, non è facile arrivare alla diagnosi, anche se è fondamentale. Quindi io l'ho scoperta così per caso, perché una volta mi trovavo in Belgio per una gara di cross e mi sono visto le mani scure, ho detto va, io per antonomasia ero uno che anche se praticavo uno sport molto nordico non avevo mai freddo, quindi avevo una predisposizione genetica a non subire freddo e mi sono accorto di queste mani scure. Mi sono andato dalla mia dottoressa e ho detto, dottoressa mi sta capitando sto fatto? E mi ha risposto, il suo malgrado forse perché è inesperta, come quasi tutti i medici di base, i medici di una malattia molto difficile, mi ha detto metti i guanti. E io gli ho dato ascolto, essendo all'inizio, per i primi due o tre mesi, poi arrivava l'estate e questo fenomeno, diciamo che l'estate sparisce. L'anno dopo si è ripresentato, è la stessa cosa, quindi arrivare a una diagnosi non è facile perché bisogna sensibilizzare i medici di famiglia a non sottovalutare questi fenomeni. Io quando ho scoperto che sono riuscito ad arrivare a una diagnosi sicura, ho preso dei deplianti e le cose le ho portate alla mia dottoressa dicendogli, dottoressa se viene gente con le mani scure non dica più, metta i guanti, però si attenga a queste piccole nozioni per poter individuare che malattia è. E come ha vissuto poi la diagnosi? Perché a un certo punto è andato a un centro specializzato e ha scoperto di essere nella fase iniziale di una sclerodermia. Ecco, come incide anche sulla vita, nel suo caso poi di uno sportivo, di un campione a livello fisico e psicologico? Ma partiamo da quello psicologico. Io quello psicologico quando ho scoperto questa malattia la prima cosa che ho fatto, essendo una persona che non mi perdevo d'animo, mi sono rivolto subito a delle associazioni. Sono andato direttamente al GILS, ho visto su internet all'associazione al gruppo italiano Sclerodermia per indirizzarmi a un centro all'avanguardia, perché come ha spiegato la dottoressa prima, bisogna affidarsi a mani esperte. Lei mi ha indirizzato alla professoressa Scorza, che era a Milano, che è stata una delle pioniere per la ricerca per queste malattie. E lì mi è stata diagnosticata una sclerodermia in fase early. In fase iniziale è stata la mia fortuna, grazie alla mia insistenza sono riuscito, come diceva lei, mi è stata bloccata. Io convivo, logicamente ci sono delle delimitazioni che mio malgrado devo sopportare perché non posso espormi più al freddo, completamente al freddo l'inverno, però la mia vita continua normalmente, senza nessun... e poi è un fattore di mente purtroppo. E allora, per capire meglio anche la funzione di questo gruppo italiano lotta alla sclerodermia, vediamo uno spot che in pochi secondi ci fa capire, quello che già ci è stato spiegato dal signor Ditano, l'importanza di queste associazioni, di questi gruppi. Per coloro che sono soprattutto nella fase iniziale di questo cammino di ricerca di una diagnosi e poi successivamente di cura. Lo spot. Hai mai pensato a quanto sia preziosa la semplicità? Alla naturalezza di un gesto? Alla facilità di certe azioni? Alla possibilità di creazione? Hai mai pensato di non poterlo più fare? La sclerosi sistemica è una malattia che colpisce molte donne. La diagnosi precoce è fondamentale, la ricerca è speranza. Aiutala con un ciclamino. Ecco, signor Ditano, quindi questo gruppo, oltre a dare una mano, come nel suo caso, ad indirizzare il possibile paziente affetto da sclerodermia verso un centro specializzato dove effettuare diagnosi e avviare l'approccio terapeutico, ha anche una funzione di accompagnamento anche in chi ha già... Diciamo che il GILS è un'associazione Ollus che raccoglie fondi, divulga tramite media e anche stanno cercando di coinvolgere, come ho detto prima, maggiormente i medici di famiglia per la diagnosi precoce, perché è risaputo che è importantissimo. Ecco, la racconta Pondi che fa, negli ultimi anni ha stanziato intorno ai 2 milioni di euro per la ricerca. Ecco. Quindi, ed è fondamentale, come ha detto la dottoressa, che ci sono dei medicinali all'avanguardia, medicinali che riescono a bloccare e grazie anche a queste associazioni, e il GILS si è buttato a capofitto in questa ricerca. Quindi, stanzia delle borse di studio per ricercatori giovani per far sì che vengono trovati dei nuovi metodi, delle nuove ricerche, delle nuove tecnologie per poter combattere questa malattia. Non è facile. Poi, messo a disposizione a Milano, al Cal Grande, al Policlinico di Milano, c'è un gruppo d'ascolto che risponde tutti i giorni, c'è un numero verde, alla quale c'è anche dei dottori, psicologi, reumatologi e immunologi che durante la settimana rispondono ai pazienti che vogliono essere delucidati per le terapie, per quanto riguarda le fasi e dove rivolgersi. E poi, visto che prima la dottoressa ha parlato che è diventata malattia rara, il GILS è stato una delle fondamentali lottatrici per far sì che passasse a livello governativo questo importante risultato per i pazienti. perché una cosa è essere malattia rara, perché a volte quando le cose peggiorano purtroppo non sempre si sta bene, le spese non sono tante, c'è bisogno di supporto familiare, quindi è importantissimo. Il GILS è proprio nella persona di Carla Crosti, la presidente di questa associazione, che è una persona squisita, che proprio si immedesima nei pazienti e fa di tutto per per far sì che noi pazienti riusciamo a stare sempre meglio. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Mollinare e il signor Vito Ditano per averci parlato della sclerodermia dal punto di vista scientifico e di esperienza personale. Grazie a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi. Grazie a voi.